buongiorno no problem no aspetta questo è il nostro mutuo si vedava senza nessun è duro è duro è duro e quando si inizia a giocare quasi devo esprimere qualche pensiero ok ma per caso vi sta a tiro passer si no no dopo dopo quando arriviamo ah lo metto bello quasi ma ieri io t'ho visto sei venuto fuori da franco poemio te ne sei visto a me te ne sei andato ma che cazzo hai combinato ti teme ti teme ma vaffanculo va ma dite a me per casa di santino master avete visto a tiro master avete visto a tiro master avete visto a tiro master non abbiamo bisogno di nessuno ricordalo non abbiamo bisogno di nessuno siamo tutti utili e nessuno è dispensato che ci sono che ci sono che ci sono che ci sono